Lo ritengono fondamentale per la città, per chi ci vive, per quella fascia di territorio tra le province di Brindisi e Lecce dove, lo dice la cronaca degli ultimi due anni, la cronaca delle ultime settimane, sembra essere forte, troppo forte la presenza della criminalità organizzata e non a San Pietro Vernotico serve un commissariato di polizia. Sarebbe questa, ne sono certi i sindacati, la risposta più forte e decisa da parte dello Stato. Attentati, pestaggi, incendi, esplosioni e poi le operazioni targate di DIA, il dibattito sull'apertura di un nuovo presidio in quella zona, in quel centro, resta attuale e viene ancora una volta rilanciato. Noi come SIA, il sindacato italiano appartenente alla Polizia di Stato, stiamo spingendo per l'apertura di questo commissariato perché praticamente diventa fondamentale per quella fascia di territorio fra le province di Lecce e Brindisi che sia la procura di DIA di Lecce che le altre forze di polizia che esistono sul territorio stanno attenzionando in maniera particolare. Gli avvenimenti degli ultimi giorni fanno sì che ormai la criminalità ha lanciato la sfida allo Stato, lo Stato non si può esimere e un presidio di polizia è fondamentale per quella fascia di territorio e per dare risposta a quei cittadini. Sarebbe la risposta giusta da parte dello Stato? È la risposta giusta da parte dello Stato perché sicurezza significa lavoro, lavoro significa dignità, lavoro significa economia, quindi dobbiamo combattere la criminalità organizzata su tutti i fronti, sia dai banchi di scuola sulla cultura della legalità sia con una repressione forte di un apparato di sicurezza che noi abbiamo ma dobbiamo mettere in campo.